Buongiorno a tutti, siamo con Don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, per commentare gli eventi a cui abbiamo appena assistito e a cui continuiamo ad assistere. Diciamo dall'11 al 12, dall'11 febbraio al 12 marzo, da Benedetto a Francesco, è stato un mese pieno di emozioni intense, no direttore? Credo che sia un mese storico, nel senso che ci ricorderemo tutti di questi eventi. E c'è un legame anche molto stretto tra i due papi, tra il papo emerito Benedetto XVI e il nuovo papa Francesco, perché vorrei ricordare che Bergoglio, nel precedente conclave che elesse Benedetto XVI, rinunciò ai suoi voti e lanciò l'elezione di Benedetto XVI. A distanza di otto anni è proprio la rinuncia di Benedetto XVI che lancia questa elezione di Bergoglio, che prende un nome che nessun altro papa aveva osato prendere prima perché davvero impegnativo, che è quello di Francesco rifacentosi al santo patrono d'Italia. Questo pontificato appena cominciato, che sta cominciando in queste ore, è all'insegna di un sacco di novità, no? Francesco, il papa sudamericano... Le novità sono tantissime. Intanto per la prima volta un papa gesuita. Un tempo si diceva che non si poteva fare un gesuita papa perché tra il papa nero e il papa bianco praticamente avevano in mano la Chiesa. La prima volta che viene eletto un papa latino-americano, quindi che si va al di fuori dell'Europa. Quindi tutta una serie di novità. Ma la vera novità è il modo con cui lui si è affacciato al pubblico di Roma, alla piazza di San Pietro, e la semplicità delle parole, la quotidianità con cui ha saputo conquistare il cuore dei credenti, ma anche dei non credenti. Un papa pastore di cui tanto c'era bisogno. In un momento in cui la Chiesa sembrava messa all'ancolo, soprattutto da questa campagna dei media che descrivevano le sporcizze, che pur ci sono le divisioni, eccetera, la Chiesa ha dato un grandissimo segnale di novità, che è anche un segnale di speranza e di ottimismo. Dopo la prima apparizione del papa, io credo che non solo quelli che erano presenti a piazza San Pietro, ma tutti sono andati quella sera a dormire con un sentimento di ottimismo e di speranza. Perché questa elezione di un papa così vicino al popolo, voglio ricordare quante volte, in quelle breve parole, quelle poche parole, ha ricordato il concetto di popolo, proprio a richiamare un concetto di Chiesa, come l'aveva espresso il Vaticano II, popolo di Dio, vescovo e popolo che camminano insieme davanti al Signore, ma stanto vicino soprattutto ai poveri. Ha parlato di fratellanza, ha parlato di carità, e lui questo l'ha testimoniato in tutta la sua vita. È stato fortissimo, o comunque è stata un'impressione fortissima, il gesto di Papa Francesco, che prima di impartire la benedizione ha chiesto alla gente, ai fedeli, di essere benedetto tramite le loro preghiere. È stato molto forte come gesto. È stato molto bello, intanto, che abbia pregato e fatto pregare, e di chiedere la preghiera su di sé, l'invocazione a Dio per il suo ministero, e soprattutto ha chiesto una piazza in tripudio, in festa per l'elezione del Papa, ha chiesto un momento di silenzio. Ecco, questo silenzio è più eloquente di tantissimi discorsi, tantissime parole, e in un momento in cui il mondo è assordato da tanti rumori, da tante distrazioni, ecco, ci invita davvero a rientrare in noi stessi, e ci invita alla preghiera. Ecco, la preghiera per i credenti, per i cristiani, è la forza per potersi davvero impegnare concretamente, poi nel monto, sporcarsi anche le mani, ed essere vicino ai poveri. E il modello di Francesco è un programma per il suo pontificato, perché Francesco vuol dire la rinuncia ai beni, vuol dire la sobrietà, vuol dire la povertà e la vicinanza ai poveri, ma vuol dire anche il dialogo con tutti, vuol dire la fiducia, la fratellanza, il rapporto con le altre religioni, perché Francesco, a mani nude, disarmate, solo con la forza del Vangelo, incontrò il Saladino, e quindi questa apertura con le altre religioni, e con l'Islam in particolare, è molto importante. E peraltro comunque Papa Francesco ha già ricevuto una notevole apertura di credito anche da parte delle comunità ebraiche, che hanno accolto con palese soddisfazione la sua elezione. Alla luce di questo esordio di pontificato, sembrano anche un po', sicuramente superate, ma anche un po' ingenue, un po' modeste, quelle illazioni che si sono fatte prima, durante, che si sono fatte anche dopo, la Curia ha perso, la Curia ha vinto, i cardinali italiani hanno perso, i cardinali italiani, insomma, qui sembra che abbia vinto la Chiesa. Io credo che noi dobbiamo abbandonare queste idee, la Chiesa ha un respiro universale, la Chiesa è molto di più della Curia di Roma, la Chiesa è molto di più del chilometro quadrato, che pochi chilometri quadrati, che sono lo Stato Vaticano, la Chiesa ha un respiro, è cattolica proprio perché è universale, il Papa Francesco l'ha detto, mi avete preso dai confini del monto, dall'estremità del monto, che preso vuol dire quasi con totto, con forza, a fare questo servizio, per cui io credo che l'interesse del monto sarà più su questo gesto di speranza, su questa elezione, che rappresenta una ventata di speranza, non solo per la Chiesa, ma per il monto, al di là di tutte, l'attenzione sulle divisioni, contrasti, ripeto, proprio nel momento in cui la Chiesa sembrava essere stata messa al tappeto, è il momento in cui si risolleva, e in questo ricalca anche i tempi di San Francesco, il momento in cui la Chiesa, nel sogno di Innocenzo III, stava crollando, ecco questo umile fraticello, tiene in piedi la Chiesa e la regge, in qualche modo la storia si sta ripetendo. Ti chiedo un'ultima cosa, credo che un altro momento molto importante, di questi primissimi che abbiamo vissuto, sia stato l'invito che Papa Francesco ha fatto, a pregare per il suo predecessore, il Papa Emerito Benedetto XVI, che è stata anche una maniera di straordinaria semplicità, ma anche una maniera molto alta di affrontare questa situazione inedita per la Chiesa, del Papa eletto, il Papa che è sul trono di Pietro, e intanto il Papa che non è morto, ma che si è ritirato in preghiera. Ci sono tanti modi di servire la Chiesa, Benedetto XVI continua a servire la Chiesa nella preghiera, Il suo gesto di umiltà è un gesto che continua nel gesto, nel modo umile e semplice con cui si è presentato Papa Francesco. Entrambi svolgono un ministero, uno da Papa Emerito, uno da Papa a cui è stato chiesto di conturre adesso la Chiesa. Entrambi sono segno davvero di speranza, e paradossalmente il gesto di rinuncia di Benedetto XVI, che non è un gesto di debolezza, ma è un forte gesto di governo, forse il più forte gesto di governo di tutto il suo pontificato, rilancia la Chiesa nel mondo e la rilancia sulla scia del Concilio, rilancia la collegialità dei Vescovi, rilancia l'importanza del popolo di Dio e quindi dei laici. Il fatto stesso che Papa Francesco si sia presentato in un modo così semplice, ha salutato buonasera fratelli e sorelle, toglie quella distanza che c'era tra la gerarchia e i semplici fedeli. Ed è il concetto che aveva espresso molto bene il Vaticano II, quando aveva riscoperto la dignità e la vocazione dei laici, all'interno del popolo di Dio, dove tutti abbiamo la stessa dignità in forza del battesimo. Ecco, queste sono le premesse che ci fanno davvero sperare in un pontificato e in un Papa che davvero ci sorprenderà e ci sorprenderà nel bene. Grazie direttore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.